Salve a tutti ragazzi, oggi nuovo video e nuovo volo con il Mavic Air, destinazione Pianiderna. La giornata è spettacolare, quindi adesso destinazione Pianiderna e vogliamo con il nostro Mavic. Ok ragazzi, siamo pronti a fare il nostro ruolo con il Mavic Air, quindi adesso decolliamo! Ciao! 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 Ok ragazzi, il Mavic sta tornando, eccolo! Quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e adesso godiamoci l'atterraggio del Mavic Air. L'atterraggio è avvenuto perfettamente, quindi ragazzi mi raccomando, iscrivetevi! Ciao ragazzi! Ciao!